Era la prima domenica di aprile, il primo giorno del mese. Eravamo tanti e tante al via. C'era tanta emozione. Per me era una delle primissime gare. Io, una mamma, laboratrice con la passione per la corsa. Correvo al fianco di atleti e atlete. Era il 1984. Pronti? Partenza? Via! Partimmo in contemporanea in 20 città italiane. Per i diritti, l'ambiente, la solidarietà. Coinvolgeva tutti, grandi, bambini, famiglie con passeggini. Un grande evento. Dietro Vivi Città c'è l'idea di condivisione. Stesso momento, stesso via. La radio che unisce. Io c'ero quel primo aprile. Continuo a esserci ancora oggi. Sono passati 40 anni e Vivi Città continua a essere messaggera di pace, solidarietà internazionale, stili di vita attivi e salute. Auguri! Buon compleanno! Vivi Città!